Sono Sofia Scarponi, una delle ultime finaliste del progetto Gucci Unich sull'argomento sostenibili. Ho dovuto studiare chimica, chimica della cosmetica, chimica delle fragranze. Mi sono affiancata a un naso per perfezionare la formula. La finalità di questo progetto legato alla cosmetica sarà indicato per un prodotto strettamente a contatto con il corpo. Quindi ho pensato di realizzare una piccola borsa che tramite delle fasce che sono diciamo staccabili si può legare in vita e avrà diciamo due funzionalità, da piccola borsa che sarà portata a mano o se no legata in vita da marsupio.